Senta, a un certo punto bisognerà difendersi, no? Che è un po' il concetto che è forse al centro di quel libro al quale lei sta lavorando, giusto? Tasmania? Un libro, sì, che sta per uscire in realtà. Tra l'altro io ci sono stata, sembra un posto che è alla fine del mondo e che non esiste neppure. Io ci sono stata, è davvero quel posto invisibile che lei starà per descrivere? Io non ci sono mai stato. Le consiglio di andare perché è veramente un posto dove io ho pensato quando vorrò scrivere un romanzo vado lì. Io, come dire, sono molto, ovviamente, è ironica questa idea anche di scegliere la Tasmania come posto dove salvarsi, no? Perché se bisogna cominciare a pensare che alcuni possano salvarsi in dei posti specifici, vuol dire che stiamo condannando la maggior parte delle persone. Questo non può accadere. Ecco, un concetto che viene portato molto poco avanti nel discorso anche sui cambiamenti climatici e che, e anche durante la pandemia è stato così, è che la solidarietà è centrale in tutto questo, come in tutta la prevenzione dei rischi ambientali. La solidarietà è un tema centrale. Non c'è salvezza individuale, non c'è neanche soluzione individuale. Ci sono solo soluzioni condivise che si basano sulla solidarietà. e non è un tema morale, è un tema scientifico e pratico. Verissimo. Senta, io... Grazie. Grazie.